Benvenuti a Il punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di attualità, politica e economia dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale dell'Umbria. Quest'oggi con noi il consigliere regionale Orfeo Goracci, gruppo consigliare comunista Umbro e il consigliere, o forse dovrei dire la consigliera, Sandra Monacelli, capogruppo dell'Udc in Consiglio regionale. Nella mia scaletta temi da trattare velocemente ma anche molto importanti, direi politica e lavoro. Partirei con la politica perché Sandra Monacelli ha appena presentato la scorsa settimana le sue proposte per la nuova legge elettorale regionale, quindi un contributo che viene proprio da Monacelli come Udc che va ad innestarsi sulla prima proposta che è stata fatta dal partito di maggioranza, dal partito democratico in commissione per le riforme. Quindi tema caldo in sviluppo proprio in questi giorni. Monacelli, queste cinque proposte dell'Udc quali sono? Mosse indubbiamente da una voglia di alzare la qualità dell'offerta che c'è oggi rispetto al tema della legge elettorale. Una questione che potrebbe apparire per addetti ai lavori invece è proprio da aspetti formali che si ricava la qualità di una proposta e anche della selezione delle classi dirigenti che oggi rappresentano la vera sfida per l'Umbria. Un'Umbria che è al bivio evidentemente. E' al bivio se continuare a rimanere piccole, magari nascondere sotto al mattone i piccoli pochi talenti che ha, le poche ricchezze che ha, oppure cercare di fare uno sforzo di coraggio. E allora le cinque proposte che ho avanzato a ridosso dell'anticipazione di quella che è stata la proposta elaborata in maniera sintetica dal Partito Democratico, che è oggi la forza egemone all'interno non soltanto della coalizione di centro-sinistra ma anche della Regione, sono proposte maturate intanto dalla necessità di non garantire spazi di conservazione del potere comunque assicurato ma di promuovere un'offerta quantomeno di qualità e coraggiosa. Ed allora le comincio ad elencare per ordine di importanza. Doppio turno perché a fronte di una situazione che evidenzia un sostanziale calo dei votanti, degli elettori sempre più diffidenti nei confronti della politica e delle istituzioni, non è pensabile poter ragionare in termini di schemi bloccati. Ed allora anche di fronte alle proposte che venivano, come dire, serpeggiando nei giorni precedenti e poi formalizzate di un unico turno con premi di maggioranza, ritengo e abbiamo ritenuto che fosse necessario cominciare a mettere dei paletti. Il primo di questi paletti è basta con i premi di maggioranza, basta con le cosiddette promozioni degli istini bloccati e anche perché non ci sembra, insomma, di poter, a fronte anche di quelle che erano state le decisioni, le sentenze della Corte Costituzionale di garantire, come dire, delle riserve indiane per qualcuno. E dunque il premio di maggioranza per coalizioni che non raggiungono una certa soglia di maggioranza non avrebbero senso perché il paradosso quale potrebbe essere? In una frantumazione politica, quale quella che potrebbe consumarsi all'interno della nostra regione con tante formazioni differenti, si potrebbe verificare anche il caso che coalizioni piccole del 30% potrebbero portare a casa un premio di maggioranza commisurato tra il 55 e il 60% e questo diventa paradossale, soprattutto se consideriamo che da andare a votare sono sempre di meno le persone. Quindi un conto che facevamo, come dire, una sorta di verifiche e di analisi contestualizzava con un elettorato che si aggirava negli anni passati intorno ad una soglia del 78-79%, oggi siamo invece ridotti ad una soglia di elettorato che è del 50% o anche sotto. Ed allora immaginare di poter attribuire premi di maggioranza del 55% su un elettorato che non arriva al 50% e una coalizione che non arriva forse al 40% diventa quanto di più antidemocratico e non rappresentativo che possa esserci. Perché dico queste cose, ma non soltanto facendone una questione, come dire, di lana caprina per addetti ai lavori, perché oggi l'Umbria ha talmente tanti problemi che necessita di riforme che devono essere affrontate con autorevolezza, con la necessaria rappresentatività. Ed allora come può una coalizione che già rappresenta poco all'interno della società poter avere nel palazzo i numeri e pretendere di essere forte quando non lo è tra la gente? E' questo il ragionamento fondamentale sul quale si basa il concetto di democrazia. Ed allora il doppio turno serve anche per verificare, per definire coalizioni il più omogenei possibili su patti chiari che vengono presentati agli elettori. E questo è il primo aspetto. Conseguentemente il premio di maggioranza deve essere tenuto il più basso possibile, perché la rappresentazione e la rappresentatività demografica dunque deve essere in linea e proporzionata ai voti conseguiti. E questi sono i primi due elementi. Altri elementi fondamentali che riguardano non soltanto la sfida della maggioranza, ma di tutti i competitor, di tutti coloro che hanno in mente un progetto, un programma da sottoporre agli elettori umbri per far sì che diventi una sfida di qualità e che non ci siano, come dire, delle riserve indiane, comunque dei posti garantiti, dei paracadute anche per le coalizioni che perdono. Ed allora se da un lato vengono eliminati il cosiddetto listino di maggioranza che viene trascinato con sé dalla coalizione che vince, dall'altro dovrebbe essere con lo stesso criterio eliminata anche la possibilità della garanzia di elezione per il candidato delle coalizioni perdenti qualora raggiunga il quorum necessario per l'attribuzione del seggio. Perché dico questo? Perché molto spesso, io ho visto che nei partiti, nelle coalizioni di minoranza, si ragiona e si discute molto più che di programmi su chi debba essere il candidato presidente, perché comunque si fa questo ragionamento molto ozioso. Male che vada il candidato presidente è comunque un consigliere di bandiera, è un consigliere che appartiene a quel partito piuttosto che a un altro, per cui già è qualcosa garantirsi un posto in consiglio regionale e di questi tempi dove il consiglio è passato, passerà da 30 a 20 consiglieri, avere comunque un posto garantito in consiglio regionale è comunque un posto in paradiso. Per cui cominciamo intanto ad eliminare queste forme incancrenite di rigidità che bloccano il sistema e cominciamo a ragionare di più sui progetti che dovrebbero essere quelli, la vera carne, il vero sangue delle coalizioni. Chiarissimo, Sandra Monacelli. Orfeo Goracci, non ci sono soglie di sbarramento, però ci sono dei limiti anche precisi, per esempio il numero di firme da raccogliere per presentarsi come candidati nuovi. Non so, lei fa parte di un gruppo di sinistra, gruppo comunista Umbro, la sinistra, le liste civiche, i cittadini che vogliono mettersi insieme devono raccogliere 3.000 firme. Quindi insomma, comunque di paletti ne sono stati proposti. Su che cosa lei è in disaccordo e che cosa apprezza di questa proposta in atto? Io sostanzialmente sono in disaccordo su tutto. Perfetto. In maniera netta ed inequivoca, perché, e sono in disaccordo anche con alcune proposte fatte, d'altronde il partito di Casini non è proprio la novità della politica in Italia, nessuno dice niente sul fatto, come ricordava poc'anzi, che siamo passati, e qui nessuno poi disse più di tanto, quando questa scelta è stata fatta oltre un anno fa, da 30 a 20 consiglieri, e questo significa che un'assemblea di condominio medio della nostra regione è molto più ampia, con il fatto che verranno tagliati fuori territori, culture, esperienze, tradizioni, che sono un elemento di riconoscibilità di questa nostra regione. E il fatto che si avanzi una proposta dove non devono raccogliere le firme, coloro che sono gruppi in consiglio regionale, che sono rappresentati il Parlamento, mentre una qualsiasi altra forma di aggregazione, fosse civica o fosse politica, deve raggiungere 3.000 firme, è un modo per dire l'autoconservazione della casta, perché 3.000 firme in una regione come l'Umbria sono molte, esagerate, e da questo punto di vista io credo che ci dovrà essere una netta rivisitazione, personalmente presenterò emendamenti molto significativi da questo punto di vista, perché penso che 500-1000 firme siano più che sufficienti, perché poi tanto decidono i cittadini chi votare o meno, l'impedire preventivamente è un modo per dire fuori tutti gli altri. Su una cosa convengo in parte con quanto poc'anzi ricordava la collega, io non sono un tifoso del doppio turno o del turno unico, credo che poi alla fine, e lo dico anche per chi può essere soggetto minoritario, e me ne vanto di questo, lo sono sempre stato, minoritario e diversamente attivo nella politica e nelle istituzioni, e queste cose purtroppo si pagano in maniera anche pesante. Ma dicevo, l'elemento che tengo a ricordare è quello che se uno non ha un consenso di qualche buon migliaio di elettori, è evidente che non può aspirare a diventare soggetto egemone o di governo, però non è nemmeno possibile, e questo è il PD che è l'asso piglia tutto, da Roma a Perugia, nei comuni, che fa i conti solo su se stesso, perché ipotizzare un premio di maggioranza senza una soglia minima è un non senso, credo anche con qualche problema di costituzionalità, come la legge per il Parlamento ha dimostrato. Quindi credo che se vogliono andare avanti su questa strada, almeno proporre e arrivare a dire che la soglia minima deve essere quella del 45%, non si può prendere il 55-60% di rappresentanza, magari avendo il 37-38% è un non senso. L'ultima cosa sulla legge elettorale che mi sento di dire e di ricordare è anche l'anomalia del non accettare il voto disgiunto. Tutti dicono, io molto relativamente, perché in Parlamento, ahimè in quella breve esperienza, fui uno dei pochissimi a non votare la legge 81 del 1993, perché la ritenevo esageratamente presidenzialista, però tutti fanno riferimento a quella legge e uno degli elementi, l'elezione diretta del sindaco e dell'allora presidente della provincia, poi Renzi ha detto che le province erano chiuse e in questi giorni c'è stata l'ammucchiata delle nuove elezioni, quindi non ci sono, però si elegge, le funzioni rimangono lo stessa. Boh, io vengo da un'altra scuola, magari sono rimasto un po' indietro e non capisco queste evoluzioni. Ma dicevo, la legge 81 aveva un elemento forte che era quello della maggior libertà dei cittadini, per esempio per poter scegliere il candidato a sindaco, in questo caso presidente, la figura che ritengo più adatta e più capace è il signor X e magari come rappresentante in consiglio un altro soggetto di un partito che poteva anche non essere della stessa coalizione. No, noi qui il voto disgiunto lo impediamo, come per le firme, e ho chiuso, nei comuni raccolgono le firme tutti, il partito grande, il partito piccolo, quelli che vogliono nella regione dell'Umbria la casta più o meno accontentata, si decide che lei non deve farlo, ma lo devono fare tutti gli altri. Non so quanto i cittadini apprezzeranno queste cose e dico al PD con molta modestia che non vanno mai fatti i conti comunque sulla carta, perché poi non solo Perugia e Spoleto hanno insegnato qualcosa tre o quattro mesi fa, ma mi permetto di dire molto sommessamente per un millesimo che a Gubbio, una città tra le più rosse d'Italia, dove quel partito PDS-DSPD aveva il ruolo e il consenso che aveva, è dovuto andare per dieci anni all'opposizione. Poi certo, queste alzate d'ingegno purtroppo si pagano, ma i conti sono comunque questi. Ringrazio i consiglieri per questa disamina politica, abbiamo fatto la pagina politica, ricordo che in questa settimana si riunisce la Commissione per le Riforme, quindi l'argomento nel mese di ottobre giungerà ad una sua definitiva identificazione. Per ora ogni consigliere naturalmente espone il punto suo personale su questa importante legge di riforma per il Consiglio regionale dell'Umbria. Apriamo la pagina direi dell'attualità e in prima pagina nella nostra regione c'è, rimane sempre l'emergenza lavoro, mai come in questi giorni, in questa settimana, in quella che ha preceduto questi giorni. Mentre stiamo parlando si svolgono delle riunioni a Terni perché è arrivata la gravissima decisione che ha colpito l'acciaio speciali. La politica da tempo si occupa di questa cosa, però il risultato purtroppo è stato quello che abbiamo visto con un provvedimento durissimo da accettare. E adesso, mentre noi siamo in onda, c'è il Consiglio comunale aperto a Terni, la seconda commissione del Consiglio regionale. E a Terni il Consiglio regionale, se non nella prossima seduta, il Consiglio regionale si dovrà tornare ad occupare dell'acciaio speciali. È una domanda difficile, comincio con Sandra Monacelli, perché la politica ha fatto, ha proposto, ha chiesto, ha spinto non so fino a quanto il governo Renzi, però per ora è arrivata soltanto una bastonata per il lavoro, per Terni. Sì, c'erano stati degli spazi di speranza nei giorni antecedenti, poi è arrivata come una sorta di doccia fredda che ha richiamato alla realtà questa decisione da parte della società degli acciai di Terni di procedere con questa formula estremamente forte e dura di decisione aziendale. La messa fuori dal lavoro di un numero così consistente di persone è un aspetto sul quale non solo la politica, ma io credo la società regionale, ma quella nazionale nel suo complesso, deve comunque affrontare con particolare tristezza, ma anche con particolare consapevolezza che qui questo problema incide in maniera fortissima. Per cui, mentre noi stiamo qua, altri nostri colleghi stanno nel territorio ternano, come veniva ricordato, per cercare di garantire quella che è la presenza che fino ad oggi non è che abbia prodotto granché in termini concreti, quindi qual è stato il ruolo della politica, difficile a dirsi. Se guardiamo i risultati, devo dire che è stata perdente la scommessa fino ad oggi fatta, continuiamo a nutrire la speranza che ancora possano esserci dei margini per poter rimettere insieme i fili di un ragionamento che speriamo non concluso, si evidenziava il fatto che forse l'eccessiva rigidità che c'è stata e da parte dell'azienda e forse in alcuni tratti e anche da parte delle forze sindacali, abbia comunque interrotto un dialogo e un tentativo di intesa che invece si rendeva e si rende necessario, non soltanto per le persone interessate, ma per tutta la nostra regione. Perché la vicenda ternana ha dei risvolti sull'economia regionale fortissimi, perché comunque questa crisi si inserisce in una crisi già complessa, quale quella che il territorio umbro deve affrontare, fa il paio con altre gravissime crisi che sul territorio ci sono, dalla vicenda della Merloni a quella insomma che hanno riguardato tutta la fascia Flaminia, insomma una crisi economica che mette in crisi la stessa sopravvivenza dell'Umbria. Per questo anche all'inizio quando facevo riferimento sulla legge elettorale che può apparire un aspetto, e sicuramente lo è, un aspetto secondario e anche per certi versi per addetti ai lavori, pone però una questione di fondo. Che senso avrebbe l'Umbria se oggi dovesse prendere atto soltanto dei fallimenti in materia economica che si stanno avendo e non avesse il coraggio di mettere in piedi una risposta, una capacità di reazione forte? Noi siamo è vero un territorio piccolo, poca popolazione, poche risorse, poche capacità anche di volare alto di fronte alla ripresa e allora le strade sono due. O siamo in grado, come dire, di riorganizzare un processo di riaggregazione anche con altre regioni per cercare di guidare e cercando anche di guidare questo progetto, questo processo, quindi ragionando anche con le regioni limitrofe e facendo un po' da capofila, mettendoci a capo di una qualche iniziativa congiuntamente che so con la regione della, con la Toscana piuttosto che le Marche quindi fare massa critica in un contesto regionale più allargato e guidare quindi i processi e gli eventi e faccio questo ragionamento anche perché oggi stiamo discutendo, è vero, del fatto ben più grave delle vicende della ciaieria ternana ma questo fa il paio anche con una, come dire, con una sorta di politica di spoliazione territoriale che c'è stata in questi anni tutto quello che si sta consumando attorno alle vicende della giustizia, la riorganizzazione, la razionalizzazione degli uffici, lo spostamento dei centri decisionali dell'Enel piuttosto che di altre reti di distribuzione, le difficoltà del credito, tutte scelte di delocalizzazione rispetto al contesto regionale che hanno di fatto impoverito questo territorio e anche le scelte che verranno, studi fatti dicono che incideranno la riorganizzazione degli uffici pubblici per un meno 5% del prodotto interno lordo di questa regione, quindi segnali che arrivano negativi, nubi negative per questa regione e allora noi dobbiamo assolutamente interrogarci sul che cosa fare perché accanto a questo c'è anche il fatto che gran parte delle imprese Umbria e del tessuto connettivo di questa regione delle piccole e medie imprese lamentano ogni giorno uno stato di sofferenza, di difficoltà, imprese che chiudono, famiglie che non ce la fanno, sono questi segnali di un'Umbria che non va per questo occorre muoversi e articolare delle risposte che oltre a selezionare le classi dirigenti in ogni ambito sappiano promuovere delle iniziative forti nei confronti del governo centrale che fino ad oggi, insomma, sì, al di là dei proclami però non è riuscito ad incidere più di tanto. Grazie Sandra Monacelli e Orfeo Goracci, c'è anche un problema di scollamento di molteplici sfaccettature nei rapporti con l'Unione Europea. Mi spiego, lei certamente sa, la Commissione Europea viene in visita alla Ciai Speciali Terni, verifica di persona il grande livello di tutti quei reparti che si trovano nella zona che tra l'altro come consiglieri regionali avete visitato personalmente. Una settimana dopo dalla Germania arrivano 500 errotti licenziamenti, quindi sembra quasi che le vicende provengano da posti diversi. C'è stata l'ascissione con i finlandesi decretata da un'autorità antitrust, salvo poi dire che però non ce la fa la Germania, non serve più termi. Qual è, insomma, il problema? È un marasma. Io credo che sia questa la fotografia del sistema capitalistico che viviamo in questo momento, in questi tempi, dove delle realtà non frega niente a nessuno, si bada soltanto alla massimizzazione del profitto. I governi sono di una debolezza estrema perché noi non possiamo non ricordare che nell'acciaio l'Italia ha fondato uno dei suoi elementi di forza del boom, ma penso all'Ilva Taranto, penso alle nostre acciaierie, penso a Piombino, penso a Sestri Levante, cioè eravamo e ancora di fatto siamo un soggetto egemone per qualità oltre che quantità. Le partecipazioni statali avranno avuto tutti i mali del mondo, ma arrivati i capitalisti che si fossero chiamati Riva, Autocumpo, Tissencruppo, che altro, vediamo che cosa sta succedendo. Allora, io credo che la prima cosa che si debba fare, oltre ai selfie e al essere affabulatori televisivi molto più bravi di Berlusconi, parlo del nostro capo del governo, davvero battere i pugni sul tavolo nei luoghi che conta, avendo in questa fase anche la presidenza del semestre europeo, oltre alle telefonate alla Merkel, per ricordare che non si può smantellare qualcosa che per l'Italia, in primo luogo siamo tutti ternani evidentemente in questi giorni, e un merito a quella città che purtroppo non c'è in altra realtà, non va dimenticato che le 537 lettere per quella realtà sono un dramma, ma io vorrei ricordare che partono a ore, 1100 erotti alla ex Merloni di Colle di Nocera, e lì non c'è la stessa identità, la stessa capacità di fare azione che c'è in una realtà che di fatto sull'acciaio è nata, cresciuta e si è sviluppata. Dicevo in primo luogo tutti ternani, ma dall'altro certo non dobbiamo avere qui voci tra noi, perché se il Premier non scende in campo direttamente su una vicenda di questo spessore, che non è soltanto Umbro, ma è nazionale, viene a Dassisi e non trova dieci minuti per farci una capatina, non è un segnale fortissimo, ma al di là di questo, che può essere dettaglio, io credo che il Governo debba immediatamente riconvocare, imporre l'incontro alle parti e non ci sto all'idea che c'è la rigidità del padrone e contemporaneamente una certa rigidità dei sindacati, ma i sindacati che non hanno certo il mio tifo, tanto per intenderci, ma difendono quel poco che è rimasto, cioè il posto di lavoro per centinaia, centinaia se non migliaia di persone. Allora da questo punto di vista io credo che occorra un'azione forte e se si permette sarà da vetero quello che volete, ma in alcuni paesi l'hanno fatto. Un'azienda che è fatta bene, che tira, il cui prodotto è ancora leader a livello mondiale, se i privati, i padroni non se la sentono di portarla avanti, io non troverei scandalizzante il fatto di nazionalizzarla. Certo, questi sono termini rispetto ai quali si rischia di prendere le denunce nei tempi che viviamo. Eppure non è il solo consigliere in questi giorni ad avere rispolverato simili ipotesi, perché veramente la gravità della situazione non fa tralasciare, forse anche ben al di là delle ideologie, quello che c'è da fare, quello che si potrebbe fare. Bene, vedo che c'è una pillola di risposta da 30 secondi ciascuno su un tema di attualità che sta per andare in aula e Sandra Monacelli è, devo dire in ordine di tempo, il primo fra i consiglieri regionali che ha presentato una proposta di legge sul problema della ludopatia, quando il gioco fa male, diventa patologico, poi sono arrivate altre proposte, ora è in aula questo argomento. In pillole, Sandra Monacelli, il problema è grosso, lo sappiamo, i numeri sono spaventosi. Uno degli effetti della crisi evidentemente ha indotto le persone a tentare di provare con la fortuna, con la sorte, ma non è soltanto questa una delle ragioni per le quali ci si rivolge al gioco patologico, sono tante, c'è anche l'influenza che possono avere le organizzazioni malavitose, il mondo della prostituzione, della droga, insomma c'è di tutto, dietro per esempio la gestione delle macchinette che possono addirittura assumere il ruolo di lavatrici per riciclare il denaro sporco, ma è preoccupante che in una regione che arretra tanti siano i soldi che vengono bruciati col gioco in maniera improduttiva ed allora io credo che la regione debba fare qualcosa, le istituzioni debbono fare qualcosa per rispondere a quelle famiglie che hanno purtroppo situazioni di patologie all'interno delle loro case, delle loro abitazioni, per cercare di normare un'attività che dovrebbe essere un'attività di svago il gioco e invece viene vissuta col dramma e le ripercussioni che questa ha. Io spero che la legge che stiamo per approvare possa davvero essere risolutiva o almeno tentare di dare una qualche risposta a chi ne è coinvolto. Consigliere Goracci, in chiusura. Risolutiva probabilmente non lo sarà perché la piaga è talmente purulenta che è difficile, però sicuramente un'inversione di tendenza è un passo in avanti importante. Quando si leggono i dati che riguardano anche la nostra regione si rimane basiti. Da una certa età fino ai 65 anni che si spendano, almeno dai dati che ci hanno offerto in commissione, circa 1.517 o 1.523 euro a persona in Umbria, ha dell'incredibile. Io sono uno che non ha mai giocato, quindi vuol dire che per equiparare i tanti che magari come me non lo fanno ci sono persone che si giocano la casa, la testa, la famiglia. Speriamo che si riesca, se non altro anche parlarne in maniera forte, a dare una mano, a far venire fuori chi finisce in questo vicolo cieco dal quale è poi impossibile uscire e che trascina non soltanto il singolo protagonista ma tutti coloro che ha intorno, familiari, affetti, relazioni. Grazie, la politica naturalmente ha il dovere e sta intervenendo su questo. Ricordo che è in aula la proposta di legge per il contrasto al gioco patologico. Il nostro tempo è scaduto, grazie per averci seguito, alla prossima settimana. Grazie. 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 Grazie.